Il giro del mondo è quanto di meglio può aspettare un marinaio, perché è una concentrazione di tutte le tecniche individuali di gruppo portate appunto attorno al mondo. Quindi dalle derive, quando si inizia da bambini per raggiungere le Olimpiadi come traguardo primo, si arriva al giro del mondo attraverso ovviamente esperienze. Queste esperienze non sono solo tecnica pura, ma è anche sopravvivenza, è anche capacità di intendere la meteorologia e la navigazione. Quindi è una completezza per un marinaio che chi ama questo sport e chi ama il mare dovrebbe fare. Ragatta tappe, quindi ci sono degli stop dove tutti gli equipaggi possono rimessare la barca e ovviamente anche se stessi dopo le fatiche. Quindi è impegnativo, il giro è lungo, ma ovviamente le attrezzature si distruggono con le ore di lavoro e dunque bisogna fare gli stop per riformare tutta un po' l'attrezzatura. Genova secondo me è proprio l'arrivo ideale, Genova è una potenza per la vela, per noi tutti è un punto di riferimento, non fosse per la presenza dell'aiuto italiano come primo circolo velico in Italia, oppure la federazione italiana, vela, che risiede a Genova. E poi è una città di mare che ha saputo trarre dal mare l'economia cittadina, quindi senza dubbio è un arrivo fantastico per tutti noi, e soprattutto prima volta in Italia. Grazie a Richard Bridius che è il CEO delle regate, che tra l'altro ha fatto due giri del mondo con gli italiani, una anche con me, e quindi ha saputo mettere insieme tutte le cose e portarci in Italia a questo arrivo meraviglioso.